Sono Alessandro Calì e insieme alla mia famiglia produciamo vino in Chianti Classico dal 1981 con Rocca di Castagnoli, a Gaioli in Chianti e con Capraia Castellina. Io oggi vi parlerò di Rocca di Castagnoli. Il mio nome è Francesco Bolognini di Capraia, è una piccola azienda di 15 ettari a Castellina in Chianti dove facciamo quattro tipologie di prodotti differenti, da un rosato alla piramide del Chianti Classico, con il Chianti Classico base, la riserva e il Gran Selezione. Ciò a cui non rinuncerei mai nel mondo del vino è la possibilità di bere una bottiglia di vino insieme a persone che ami, con cui stai bene, perché alla fine il vino e la bottiglia diventa uno strumento di condivisione per stare insieme. Ovviamente bisogna sempre cercare di bere un vino buono, caratteristico, però alla fine ciò che non può assolutamente mancare è il piacere di berlo con le persone che si amano e con le persone magari anche nuove che si possono conoscere. È uno strumento di condivisione e di unione. Il mondo del vino è principalmente un'attività nella quale di famiglia, ma devo dire che da quando uno ci entra si innamora immediatamente, perché il vino è convivialità, sedersi a tavola, mangiare e bere è un piacere, perché comunque ci si trova sempre in contatto con persone e ci si interagisce davanti a bottiglie di vino e davanti al cibo.